Cristiano Ronaldo e Georgina è in crisi il messaggio che svela tutto. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono in crisi. Il gossip bomba è stato lanciato da Telecinco, i due sarebbero distanti da tempo. Nonostante il super regalo di Natale della modella per il suo compagno, una Rolls Royce dal valore di 345.000 euro. Secondo i gossip i due, che non sono ancora diventati marito e moglie, starebbero cercando in tutti i modi di apparire sereni sui loro sociali in occasioni pubbliche. Ma la mancanza di complicità che dimostrerebbero da tempo avrebbe riportato a gala i dubbi sulla stabilità del loro legame. Contratti pubblicitari e altri impegni professionali sarebbero, per le malelingue. Le uniche ragioni che tengono unita la coppia in questo momento. Per molti la relazione tra Ronaldo e Georgina sarebbe infatti pura convenienza. Pettegolezzi che hanno spinto la Rodriguez a rompere il silenzio e a scrivere un messaggio che lascia poco spazio a interpretazioni distorte. Punto. Cristiano Ronaldo e Georgina stanno ancora insieme Georgina Rodriguez ha condiviso sul suo account Instagram. Seguito da oltre 44.000 follower, un video con alcune immagini della presentazione di Cristiano Ronaldo al nuovo club. L'Al Nassr. Grazie Arabia Saudita per la calorosa accoglienza ha scritto la compagna di CR7. Siamo estremamente contenti di questa nuova avventura e vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile ciò. Sono davvero contenta di vedere Cristiano così eccitato e camminare, mano nella mano. Nella stessa direzione verso un futuro radioso. Sempre insieme, con la nostra preziosa famiglia. Un messaggio che non lascia dubbi, mano nella mano, stessa direzione, è evidente che il rapporto tra i due è più solido che mai. Ad unire ancora di più la coppia tra l'altro è stata la tragica perdita di un figlio, un trauma che ha segnato sia il giocatore sia la modella influencer. Virgola.